Abbiamo giocato un partito eccellente, è chiaro che in questo momento, in questi partiti, abbiamo giocato in 180 minuti e abbiamo un'altra opportunità, maggiore, sappiamo molto bene che il Manchester ha ganato con il Liverpool, ha ganato con il Chelsea, ha ganato in remontata con Crystal Palace, stanno in buona raccia, se ti dici, e noi speriamo che domani interrompiamo e rompiamo la buona raccia delle United.